Grazie a tutti. Cavalli di tre anni, nove Alvia, uno Cookie Griff, due Cangelosi GV, tre Casco Rindal, quattro Cicchita Jet, cinque Ciglia, sei Cosima Ferm, seconda linea, sette Cianli GFL, otto Cometa LL, nove Cagliolargo Pax, dieci Codigal. In chiusura molto appoggiate Cicchita Jet e Casco Rindal, poi anche Cangelosi GV e Cosima Ferm. Macchina intanto che accelera, partiti velocissimi in partenza Cicchita Jet mentre c'è l'errore di Casco Rindal. In seconda posizione si mantiene Cookie Griff nei confronti di Cangelosi GV. sulla curva, continua a guidare Cicchita Jet, completi due cento iniziali in quindici e otto. In seconda posizione per Cookie Griff, largo Ciglia, lungo la corda c'è Cangelosi GV. Ancora Cagliolargo, Pax, via via tutti gli altri con il quarto iniziale che se ne va in un tranquillissimo 32 e 1. E così dalle retrovie c'è la progressione di Cosima Ferm. Cosima avanza con decisione sul rallentamento imposto da Cicchita Jet, va ad impegnarla dopo 500 metri di gara. Se ne va intanto il primo segmento in 48 e 6, davanti alle tribune, continua a condurre Cicchita Jet nei confronti di Cosima, ferma all'esterno, alla corda rimane Cookie Griff, poi Cangelosi GV con all'argo Ciglia. Per così esterne si impegna anche Codigal, 1-3,5 il passaggio agli 800, situazione invariata con Cicchita Jet che controlla la situazione. Mentre scende in seconda posizione Cosima ferma all'altezza del chilometro in 1'18,8, 500 all'arrivo, situazione invariata, Cicchita in vantaggio, Cosima ferma in seconda posizione, poi in terza c'è sempre Cookie Griff, l'errore intanto di Codigal. Numero 10 con un vantaggio sempre Cicchita che sta allungando, allungo di Cicchita in retta d'arrivo, in seconda posizione c'è sempre Cosima ferma che prova di nuovo l'attacco all'interno in open stretch, nel finale controlla agevolmente ancora Cicchita, mentre al secondo Cosima ferma, al terzo dovrebbe essere ancora Cookie Griff, andiamo a rivedere. Le fasi finali 1'17,3 intanto corsa tattica con Fabrizio Ciulla che controlla la situazione per 600 metri, deve accelerare un po' sull'arrivo di Cosima ferma che poi si accoda dopo un chilometro e arriva a seconda, senza riuscire comunque ad impensierire più di tanto Cicchita, mentre per il terzo dovrebbe essere ancora il numero 1 Cookie Griff a salvarsi. Grazie a tutti.